Buonasera, Tassarocco di Capodimonte, il mundialito, ottava edizione, terza giornata, Real Caballana batte Napoli 6-5, migliore in campo Davide Scafaro, consegnava la medaglia, complimenti Davide, senti partita, stupenda, bellissima, ritmi alti, tutte e due squadre avete giocato bene, per me il pareggio era il risultato più giusto dopo questa partita, tu decisivo, 4-1, 4-5 parati di livello, nel finale il gol, se ne sbaglio, di Giuseppe Di Levo, di Filippo, non ho bisogno, visto bene, avete portato tre punti importanti, molto, molto, sono importanti anche per la sconfitta della settimana scorsa, avevamo bisogno di una vittoria, e niente da dire sulla partita, è stata veramente una bella partita, hanno giocato benissimo, tutte le squadre, sinceramente mi sono divertito un sacco, no, pure noi da fuori ci siamo divertiti, davvero, il nuovo complimento è che mi sono divertito, sono stato tutti e 50 anni di qua a vedere, anche di solito, vado a parlare un po' con le persone, però sono rimasto a vedere, è stata una bella partita, la squadra avversaria era forte, si, avete giocato un trap benissimo, un po' come loro, anche voi, un po' di blackout a tratti, lasciavate un po' di spazio in più agli avversari, anche loro hanno fatto lo stesso, però una partita così ci può stare, si, a correre così tanto tutta la partita, tutte e due le squadre, capita qualche volta, di rimanere spazio scoperto, come hai detto tu, vi siete rifatti dopo la sconfitta della settimana scorsa, adesso bisogna avere continuità, si, la prossima partita bisogna vincere ancora, va bene, ti vuoi fare una dedica speciale a qua qui, alla squadra, che ha giocato bene stasera, complimenti, ci vediamo alla prossima, ciao, 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 Grazie